I innocenti del nostro territorio e della terra dove siamo nati ci guardano negli occhi e ci chiedono di essere all'altezza del loro sacrificio e della loro innocenza. Oggi noi vogliamo combattere anche la memoria di circostanza, la memoria piena di retorica. La memoria è un progetto per il presente, è un impegno di credibilità ed è soprattutto quando si indossa un ruolo istituzionale, una fascia, un impegno contro malapolitica, malaffare, corruzione perché questo dà tanta forza e tanto ossigeno alle organizzazioni criminali che sfruttano la disperazione dei più debili. E quindi oggi è un'occasione per ribadire un impegno vero per la povertà, per le persone, per gli ultimi, per le vittime affinché possano ispirare il nostro agire e qualificare il nostro presente. E farlo tra i ragazzi con i ragazzi l'immagine più forte e potente che possa arrivare anche agli adulti, alle persone che oggi possono con il loro contributo dare un segno concreto alla liberazione delle nostre città da queste miserie e da queste pagine di sangue.